Salve a tutti, sono Bianchi Gabriele, faccio parte del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana. Sono qua oggi per presentarvi la nostra proposta di legge Quorum Zero, per spiegare che i cittadini hanno potere di eliminare una legge, potere abrogativo, in che modo? Raccogliendo le firme per poter indire un referendum abrogativo in questo caso. Una volta che sono raccolte le firme viene fatto il referendum, ma qual è il grande limite? Il grande limite è il quorum, perché nella legislazione attuale si impone una percentuale di partecipazione affinché sia valido il referendum. Noi vogliamo che questo quorum venga eliminato, che sia un quorum zero, per intendersi i cittadini vanno a votare e chi vota decide e la maggioranza vince.